Salve cari amici, carissime amiche, più che altro carissimi giovani, attenzione è arrivato il Power Player Super Joy, il migliore, il più potente, il più economico, solo per voi più economico però, perché costerebbe un sacco di soldi, stiamo parlando di un eccezionale videogame, un eccezionale che vi consentirà di fare mille giochi, si fa per dire sono esattamente 73, ma sono tanti, con un sacco di optional, insomma di giocare veramente con gioia, voi e tutta la famiglia, andiamo a vedere le immagini, andiamo a vedere quali sono i giochi inseriti in questo spettacolare oggetto, intanto avete due console, due joystick, vedete questo addirittura con la monoleva, l'altro primario e in più una bellissima pistola che vi servirà per giocare a quei giochi dove c'è da sparare, tutta una serie di accessori che sono compresi, non dovete pagarli a parte, guardate il prezzo che vedete in sovrimpressione, è il solo costo dell'alimentatore, funziona sia a batterie interne vedete, sia con l'alimentazione esterna, quindi voi potete usarlo anche dove non avete energia elettrica a portata di mano, quindi con un televisore portatile al limite, ora vi faremo vedere come si applica al televisore, quale facilità vi consentirà quindi di collegarlo, vedete avrete tutte queste cose in dotazione, avete la multispina che va inserita dietro al televisore, la presa a scart, che ogni televisore anche dei meno moderni ha di sicuro, inserite, vedete la presa a scart, andate a cercare con il telecomando il segnale AV che vi indica appunto che siete collegati con quella presa, vedete AV e cominciate a giocare, e cominciate a giocare con ben 73 giochi uno diverso dall'altro, vi annoierete, vi annoierete a cercarli tutti, eccoli qua, sono tanti, sono belli, ci sono tutti i giochi più moderni e più intelligenti del mondo, non dovete, vedete, comprare un videogame che poi ogni volta dovete comprare una cassetta nuova, ogni volta dovete andare a spendere altri 100 euro, 50 euro per una nuova cassetta, il gioco che magari avete vi ha annoiato, che si fa, ci vogliono altri soldi, invece con 2 euro voi avrete tutti i giochi già inseriti all'interno con un semplice bottone, non c'è da caricare il disco, fare tutte quelle operazioni complicatissime, qui basta solo accenderlo e schiacciare il bottone, si può giocare singolarmente, si può giocare in 2 e si può sparare con la pistola, avrete il calcio, il karate, la lotta, il tetris, il super mario, una serie di battaglie aeree e spaziali, la formula 1, il papai, il labirinto, il volano, il gioco del tennis, il duello west, gli sci, il golf, il baseball, il tiro a segno, il tiro al piattello, il flipper, il biliardo, il motocross e chi più ne ha più ne metta, insomma guardate, è la fine del mondo, guardate la formula 1, sembra veramente di fare la gara e la potete fare in 2 giocatori, quindi uno la macchina, l'altro l'altra vettura e via, uno la Ferrari, uno magari l'altra marca, una Honda, insomma vi divertite con le battaglie navali, con tutti i giochi che potete immaginare e poi ci sono tutte le varie opzioni, quando diventerete abbastanza bravi potete giocare con l'opzione più difficile, guardate qua ci sono giochi anche didattici molto intelligenti, vedete un giocatore, due giocatori, livello A, livello B, livello C, quindi non è una cosina da poco, la grafica, la musichetta perfetta, bellissima, guardate le immagini, sono meravigliose, insomma un oggetto incredibile che solo per voi, solo per chi chiama in questo momento, costa talmente poco da essere incredibile, vedete qui ci sono altre gare stradali di auto, avete diverse gare di motocross, diverse opzioni per il gioco del calcio e poi tutte le battaglie possibili, immaginabili, insomma veramente una grande novità, regalata ai primi 100 che chiameranno, perché regalata a questo prezzo non ci compreste un solo gioco, con questa cifra non ci compreste un solo gioco, lo dico ai papà, voi comprate, guardate è bello il tennis, si può giocare singolarmente, ci si può allenare da soli, giocare in due, giocare addirittura nel doppio in due, questo c'è il duello, ci vuole la pistola, avete pa e l'avete ucciso, l'avete abbazzato e così, tanti altri giochi belli, insomma veramente, io ne ho detto tutti i 73, sono tantissimi, vi divertirete come pazzi, voi e tutta la famiglia, il bello è anche il nonno, anche chi è meno pratico potrà accenderlo con facilità e giocare col nipotino, chiunque potrà divertirsi in qualsiasi momento, ci vuole un attimo per installarlo, non ci vuole proprio niente, non ha bisogno di complicazioni, di cose particolari, di difficoltà particolari, è facile, guardate la battaglia aerea, ma guardate la grafica, guardate i colori, le luci, insomma è stupendo, stupendo, dovrebbe costare 350 euro e non avreste poi tutti questi giochi, guardate che gli altri che voi vedete costano 200-300 euro solo la console, qui avete invece due console, avete il joystick, avete la pistola molto bella, guardate qua tutta metallizzata con il suo cavo per sparare, avete tutto quello che potete immaginare con 73 giochi più gli optional, quindi innumerevoli possibilità, ma veramente tante, insomma non vi potete annoiare, non è dice babbo questo gioco mi è avuto annoio, me ne compri un altro altri 50 euro, babbo me ne compri un altro altri 100 euro, papà questo non è altri 60 euro, qui sono 73, tutti quelli che poi, guardate lo sci, lo sci di fondo, lo slalom e qui il labirinto, le case, ma guardate è meraviglioso, vi dico che è meraviglioso, chiunque lo abbia sperimentato è rimasto soddisfattissimo, io vi dico che però dovete correre, ecco qui vedete ci sono dei nostri figuri e uno ta, appena si gira la figura spara oppure spara agli aerei o spara alle navette spaziali, quindi è bello anche il fatto di giocare con la pistola, mi raccomando però, solo 100 avranno diritto a questo prezzo incredibile, chiama subito, tu ragazzino, papà, convinci magari il nonno, fate quello che volete, ma dovete chiamare subito, perché per questo prezzo ne diamo solo 100, costano molto di più a noi, ripeto poi ci saranno due lire per il contributo della consegna, ma è veramente molto poco, come sempre soddisfatti o rimborsati, ma guardate il tennis, guardate i flipper, guardateli quanti sono, quanti ce ne sono, io guardate ho scritto alcuni di questi giochi, non li potevo tenere tutti a memoria, il calcio, il karate, la lotta, il tetris, il super mario, la battaglia aerea, le battaglie spaziali, la formula 1, le gare automobilistiche stradali, il papà, il labirinti, il volano, il tennis, il welly west, ce ne sono diversi, lo sci, il golf, il baseball, il tirassegno, il tirappiattello, il flipper, il biliardo, il motocross, ma insomma qualsiasi gioco vogliate, credo ci sia anche il pugilato, insomma vi divertite come pazzi per le lotte, le gare, guardate qui vede proprio tipo caccia, vedete c'è l'animalino, uno appena viene fuori, ta, li tiro, eh, eh, l'ho ucciso, ta, l'ho colpito, eh, bellissimo, ragazzi è spettacolare, io stesso mi diverto appena posso, ne ho preso uno e la sera con il mio nipotino mi diverto come un pazzo, mi raccomando però, ripeto ancora una volta, telefonate subito, non aspettate domani, perché poi domani potrebbero essercene meno o addirittura non ce ne potrebbero essere più neppure uno, ne abbiamo soltanto 100 a disposizione a questo prezzo, poi naturalmente verranno venduti il prezzo normale, potete immaginare quanto sia alto, perché se soltanto un gioco costa 50 euro, qui ne abbiamo 73, eccoli, papà e figlio che si cimentano, che si divertono con il nostro gioco, guardate che meraviglia, che passatempo stupendo, e il ragazzino non potrà dirvi papà un altro gioco, comprami, li ha tutti lì, non potrà dire mi sono annoiato, perché è impossibile, quando avrà imparato bene con un gioco ce ne sono altri, e poi quando li avrà imparati tutti bene ci sono le varie opzioni, e poi potrà giocare, fa le gare con l'amichetto, potrà fare le gare con il papà, con il nonno, con la mamma, non si può annoiare, tutto è inserito nella confezione che arriverà a casa vostra, tutti gli accessori, c'è tutto per giocare subito, immediatamente, e vi prego di notare la grafica particolarmente curata, l'audio veramente eccezionale, insomma qualcosa di meraviglioso, che dovrebbe costare 400 euro, non quella cifra lì, dovrebbe costare 400 euro, non questa cifra bassissima, guardate soltanto la pistola, soltanto questo, e questo piccolo accessorio costa 30 euro, mi raccomando però, power player, super joy, bisogna telefonare oggi, immediatamente, subito, e chi non lo fa fa un errore madornale, mi raccomando, ripeto, il numero lo vedete, fatelo, senza impegno, senza rischio, soddisfatti o rimborsati, garanzia totale come sempre per tutti i prodotti che vi porta Roberto Artigiani, e credo che veramente questa volta dobbiamo battere le mani all'azienda che ha trovato questa meraviglia, e più che altro che ha trovato la possibilità di darvela ad un prezzo così basso, perché è incredibile, ma è vero, e me ne accorgerete quando arriverà a casa, ditela agli amici, fatelo chiamare, fate chiamare anche loro, però bisogna essere veloci, perché 100 per tutta Italia sono veramente molto, molto, molto pochi. Un ciao da Roberto Artigiani, un saluto, sono sicuro che avete chiamato, io vado a giocare a Power Player Super Joy!